Il livello istituzionale oggi vuole essere non il luogo che occupa, ma il luogo che si apre perché esperienze con quella dello scautismo possano essere, come dire, foriere per il paese e per l'Europa di un'occasione di coraggio e di speranza rinnovata. Io l'auguro più grande che vi faccio è sappiate appassionarvi e divertirvi in ogni istante che vi avrete in questa sede, ma soprattutto fate di questa sede la soglia, la membrana che apre questo tempo al tempo che ancora non è accaduto, ma che già oggi dobbiamo avere il coraggio di desiderare. E quindi sorridete in ogni riunione, guardate lontano e quando avrete guardato lontano guardate ancora qui. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.